Le nostre città sono sempre più fragili, oggi a UrbanPromo parliamo soprattutto di rigenerazione, di espansione urbana, di quello che sta succedendo anche all'interno delle nostre città, dove stiamo rendendo le nostre città sempre meno resilienti, sempre più impermeabilizzate, con un consumo di suolo che tende a concentrarsi nelle zone fondamentali all'interno del tessuto urbano, le zone aperte, le zone naturali e anche i residui agricoli e invece lì quasi la metà del consumo di suolo si concentra con 24 metri quadrati di aree verdi, aree naturali all'interno del tessuto urbano perse soltanto per ogni ettaro in 12 mesi.